Buonasera dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove si segnalano 8 km di coda e traffico bloccato per un incidente avvenuto al km 36 e 600 tra Empoli e Santa Croce sull'Arno in direzione Livorno e si segnalano anche code per curiosi tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato in direzione Firenze. Sempre in FIPILI code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. A Firenze via del Padule resterà chiusa fino al 10 aprile tra via della Villa Cedri e via di Villa Magna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a domani buon viaggio. Grazie a tutti.